Ciao, come state? Tutto bene? Finalmente ci ritroviamo insieme perché sono uscita dalla quarantena, quindi ho finito e ritorna il nostro appuntamento di domani, insomma del martedì mattina a partire dalle ore 9 per raccontarci come sempre un po' di musica, ma domani mi piacerebbe parlare con voi anche di quella che può essere, se mai ce l'avete, insomma una colonna sonora dei vostri viaggi e in qualche modo se avete delle canzoni particolari che vi piace ascoltare durante il viaggio, per cui iniziate a pensare domani mattina alle 9, ci ritroviamo qui e come sempre insomma mi raccontate un po' di voi, un po' di quella che è la vostra colonna sonora del vostro viaggio, io vi racconterò la mia e sicuramente troveremo quelle canzoni che in qualche modo non possono assolutamente mancare nella nostra playlist estiva, va bene vi aspetto, mi raccomando come sempre domani qui alle ore 9, ciao, buona giornata, a domani, ciao!